Sono tante le domande che le donne che temono di avere un tumore al seno si pongono e che spesso non sanno a chi rivolgere per avere delle risposte. A volte per mancanza di tempo, altre volte per paura, altre volte per vergogna eppure incamminarsi sul percorso della prevenzione è molto facile, in particolare oggi, giornata mondiale della radiologia, tante iniziative in Puglia. Con noi c'è la dottoressa Antonietta Ancona dell'ospedale Santa Maria. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Voi avete organizzato tante iniziative, qui c'è anche un Depliano, una piccola brochure che contiene forse qualche risposto, anche un incoraggiamento a rivolgersi a un medico, anche ad un primo dubbio e che voi distribuite appunto oggi. Però fate tante cose oggi, ci può spiegare cose in particolare? Oggi è la giornata mondiale della radiologia e si celebra la breast imaging, cioè dedicata alla senologia. In tutto il mondo ci sono incontri, convegni per parlare di questo argomento. Noi abbiamo cercato di scegliere una formula un po' più innovativa, l'open day presso la Santa Maria è caratterizzata da un evento fluido, partecipato, diretto con le donne. Cioè le pazienti potranno rivolgersi direttamente agli operatori a cui potranno porre delle domande, dei dubbi, delle incertezze, cose che magari non chiedono in un ambito un po' più pubblico che può essere quello di un convegno. Le donne sono prese essenzialmente da uno stato di ansia e di paura quando approcciano questo problema, per cui dare delle informazioni un po' più corrette serve anche a rendere più facile l'avvicinarsi di tutte le donne alla prevenzione. Ricordiamo dov'è la vostra clinica? Sì, è la Santa Maria a Bari, gruppo GVM, tutti la conoscono, è una grossa casa di cura in cui si fa da tanto tempo senologia. Ci sono anche, lo ricordiamo, anche tanti altri ospedali nella Puglia, ad esempio il San Paolo a Bari che stanno facendo la stessa cosa, basta un po' informarsi. Direttore, anche tu volevi? Qual è la differenza nella risposta tra ospedale privato e ospedale pubblico? Diciamo che gli ospedali pubblici stanno subendo una certa sofferenza, sono in sofferenza per quanto riguarda il personale. E quindi alla domanda che è decisamente una domanda esorbitante danno una risposta, sicuramente una risposta estremamente valida, io vengo dal pubblico, però in tempi un pochino più lunghi. Le strutture private oggi sono strutture private di eccellenza, particolarmente attente alla medicina di genere, come appunto il gruppo GVM della Santa Maria, per cui riescono a dare una risposta con un impegno diretto delle risorse più veloce. Possiamo un po' quantificare, una domanda fatta oggi da una persona che non conosce nessuno all'interno della sanità. Vuol dire i tempi di attesa? I tempi di attesa. I tempi di attesa variano da strutture che hanno poca attrazione, che possono essere quelle di una settimana, fino ad arrivare ad anni. Ma lei si è mai pentita di aver lasciato il settore pubblico per quello privato? Lavora meglio nel pubblico o nel privato? Questa è una domanda tendenziosa. Io ho lavorato bene nell'uno e nell'altro settore perché sono fortunata in quanto mi piace il mio lavoro. Spero di poterlo comunicare alle donne, soprattutto per ridurre quella che è la paura nell'approcciare questo problema. Vogliamo fare un appello alla prevenzione perché i dati che ci sono, cioè il tumore al seno si previene e si può sconfiggere. Vogliamo fare un appello a tutte le donne che ci stanno ascoltando? Perché questo tumore sicuramente è un tumore con un'incidenza molto alta. Ma fortunatamente c'è una netta riduzione della mortalità sia perché si riesce a diagnosticare il tempo utile e perché le cure sono estremamente avanzate, sia cure chirurgiche che cure mediche. Quindi affrontarlo vuol dire poter raggiungere, io parlo di cronicizzazione o parliamo anche di guarigione, in due casi su tre. Quindi vale la pena provarci. E la giornata di oggi è una giornata di sensibilizzazione e di informazione. E anche per ottenere risposte, quelle risposte a quelle domande che non sempre si ha il tempo, il coraggio di fare, che invece vale la pena fare. E ritengo che la prevenzione passa necessariamente attraverso una corretta informazione. Grazie, grazie ad Antonietta Ancona, radiologa dell'ospedale Santa Maria di Bari. Grazie a tutti.